Il signor Lemonnier era rimasto vedovo con un bambino. Aveva voluto molto bene a sua moglie. L'aveva amata ad un amore tenero e ardente, senza un'ombra, durante tutto il tempo della loro unione. Era un bravo uomo, semplice, onesto, leale, né diffidente né malizioso. Innamoratosi poi di una vicina povera, ne aveva chiesto la mano e l'aveva sposata. Aveva un negozio di stoffe, che rendeva bene, guadagnava assai, e non ebbe il minimo dubbio che la ragazza lo avesse accettato a causa della sua situazione economica. D'altra parte lei lo rendeva felice. Lui non aveva occhi che per lei, non pensava che a lei, contemplandola in continuazione con gli sguardi di un adoratore in estasi. A tavola commetteva mille sbadataggini per continuare a guardare il prediletto volto di lei. Versava il vino nel piatto e l'acqua nella saliera. Poi scoppiava a ridere come un ragazzo, dicendo «Ti voglio troppo bene, e tu mi fai fare queste stupidaggini». Lei sorrideva, placida e rassegnata, poi distoglieva lo sguardo come se tutta quella adorazione la disturbasse. Tentava di farlo parlare, di chiacchierare su un argomento qualsiasi, ma lui le prendeva la mano attraverso la tavola e la serrava, sussurrando «Mia piccola Jeanne, mia carissima Jeanne». Lei allora perdeva la pazienza e diceva «Vià, non facciamo i bambini! Mangia e fammi mangiare in pace!» Lui sospirava, mordichiava un pezzetto di pane e lo masticava con lentezza. Per cinque anni non ebbero figli. Lei rimase incinta senza che nessuno se lo aspettasse. Fu un delirio di felicità. Per tutto il tempo della gravidanza non la lasciò un attimo, tanto che la vecchia serva, che lo aveva allevato e spadroneggiava nella casa, era costretta a spingerlo fuori e a chiudegli la porta alle spalle, perché se ne andasse a prendere un po' d'aria. Era divenuto anche molto intimo di un giovane amico di infanzia della moglie, già vice capo ufficio alla prefettura. Il signor Duretour cenava tre volte alla settimana in casa Lémonie. Portava i fiori alla signora, offriva qualche volta un palco al teatro e spesso al momento del dolce Lémonie si commuoveva e diceva alla moglie «Una compagna come te e un amico come lui, questa è la felicità sulla terra!» Lei morì di parto. Poco mancò che morisse anche lui. Ma la vista del piccolo gli dette coraggio, una creatura grinzosa che piangeva sempre. L'amore un amore appassionato e doloroso, un amore morboso in cui alleggiava il ricordo della morte, ma anche in parte la sua idolatria verso la morte. Era la carne di sua moglie, una parte di lei che continuava ad esistere, quasi la quintessenza di lei. Quel piccino era la vita stessa di lei, passata in un corpo diverso. Lei era scomparsa perché potesse esistere lui. Il padre lo abbracciava e baciava furiosamente. Ma l'aveva anche uccisa, quel piccino. L'aveva preso e rubato quella vita adorata, se ne era nutrito, l'aveva prosciugata. E il signor Lemonier poggiava il piccolo nella culla, sedendosi vicino a lui per contemplarlo. Rimaneva a guardarlo ore ed ore, pensando a tante cose, ora tristi e ora liete. Appena il bambino si addormentava, si chinava sul suo visetto e piangeva tra le trine. Il bambino crebbe. Suo padre non resisteva un'ora senza di lui. Gli geronzolava intorno, lo portava a spasso. Lo vestiva lui stesso, lo puliva, lo faceva mangiare. Il signor Duretour, il suo amico, voleva molto bene anche lui al piccino e lo abbracciava con slancio, con la stessa frenesia amorevole che hanno i genitori. Lo faceva saltare tra le brazza per ore ed ore. Gli faceva fare cavalluccio sulle ginocchia. E all'improvviso gli sollevava il vestitino per baciargli le coscine grassottelle e i polpaccetti rotondi. Il signor Lemmoni andava in estasi e mormorava «Quanto è carino! Quanto è carino!» Il signor Duretour stringeva il piccino tra le brazza, facendogli il solletico sul collo con i baffi. Soltanto Celeste, la vecchia serva, non mostrava affetto verso il bambino. Le sue malizie la innervosivano e le moine dei due uomini la esasperavano. Esclamava «Ma vi pare questo il modo di tirare su un bambino? Vedrete che scimmiotto diventerà!» Trascorse molto tempo. Jean compì nove anni. Era stato così viziato che sapeva appena leggere e voleva far sempre di testa sua. Aveva voglie caparbie, ritrosie invincibili, collere e furibonde. Il padre cedeva sempre e tutto gli concedeva. Il signor Duretour gli portava di continuo tutti i giocattoli che desiderava e lo riempiva di dolcetti e cioccolatini. Celeste allora si adirava e si metteva a strillare «È una vergogna, signore! È proprio una vergogna! Lo farete diventare un vizioso, questo bambino! Lo rovinerete! Dovreste finirla prima o poi, ve lo dico io! Non potete continuare in questo modo!» Il signore Monnier rispondeva sorridendo «Che vuoi farsi, cara? Gli voglio troppo bene! Non riesco a resistergli! Devi rassegnarti!» Jean era debole, malattizzo. Il medico trovò che era anemico. Ordinò una cura di ferro, carne al sangue e minestre sostanziose. Ma il bambino voleva solo dolci e ricusava ogni altra cosa. Il padre disperato lo rimpinzava di paste alla crema e alla cioccolata. Una sera che padre e figlio erano a tavola, Celeste poggiò la zuppiera con un'aria autoritaria che non l'era abituale. Tolse il coperchio con decisione. Si immerse il mestolo e disse «Non ho mai fatto un brodo così squisito! Stavolta il bambino lo deve proprio assaggiare!» Intimidito, Nemonia abbassò la testa. Comprese che era imminente una burrasca. Celeste prese la scodella, la riempì e gliela mise davanti. Lui assaggiò e sentenziò «È buona davvero!» Allora la serva prese la scodella del bambino e ci versò un mestolo colmo della minestra. Poi fece due passi indietro e si mise ad aspettare. Jean d'annusò e scansò la scodella con un di disgusto. Celeste sbiancò e si avvicinò rapidamente e presa una cucchiaiata piena e la infilò di forza nella bocca socchiusa. Lui si strozzò, tossì, sternutò, sputò e afferrò urlando un bicchiere che tirò addosso alla serva. La centrò sulla pancia. Allora lei, furibonda, circondò con un braccio il capo del marmocchio e cominciò a infilargli in gola una dopo l'altra cucchiaiate di minestra. Jean le vomitava tutte scalpitando, torcendosi, ansimando, annaspando con le mani, paonazzo come se stesse per morire strozzato. Il padre da principio rimase tanto sorpreso che non si mosse neppure. Poi con uno scatto si slanciò con la rabbia di un pazzo furioso e prese la donna alla gola gettandola contro il muro e gridando «Fuori! Fuori! Bestia!» Lei lo respinse con un urtone e scarmigliata la cuffia di traverso e gli occhi fiammeggianti urlò «E adesso chi vi prende? Volete picchiarmi perché faccio mangiare la minestra a sto bambino che voi state ammazzando con tutti i vizi che gli avete dato?» La monia tremava dalla testa ai piedi e ripeteva «Fuori! Va via! Bestia!» Allora lei gli si avvicinò lo fissò e gli disse con voce tremante «Ah sì? Credete di potermi trattare così? Ah no e poi no! E poi per chi? Per chi? Per questo marmocchio che non è neanche vostro? No! Non è vostro! Non è vostro! Non è vostro! Lo sanno tutti! Tutti! Meno che voi! Chiedetelo al droghiere, al macellaio, al fornaio! A tutti! A tutti!» Strozzata dall'ira non finiva le parole ma quando la guardò ma quando lo guardò tacque di colpo gli era immobile livido le braccia a penzoloni dopo qualche minuto balbettò con voce spente e tremula in cui tuttavia palpitava un tremendo turbamento «Che dici? Che dici? Che stai dicendo?» Lei non parlava più atterrita dalla sua espressione Lémonie fece un passo avanti ripetendo «Che dici? Che stai dicendo?» Con voce tranquilla Celeste rispose «Dico quello che so santo cielo! Dico quello che sanno tutti!» Lui alzò le mani e le si scagliò addosso con furia animalesca tentando di buttarla a terra ma nonostante l'età la donna era anzile e robusta gli sgusciò dalle brazza e corse attorno alla tavola stridendo di nuovo fuori di sé «Ma guardatelo! Guardatelo bene! bestione che non siete altro! Guardatelo! Se non è il ritratto spiccicato del signor Duretour! Guardategli il naso e gli occhi! Che? Sono come i vostri? Gli occhi? E il naso? E i capelli? Le aveva forse lei in questo modo? Ma se vi dico che lo sanno tutti tutti meno che voi siete la favola della città! Guardatelo! Guardatelo! Guardatelo bene!» Era arrivata davanti alla porta l'aprì e sparì Jean spaventato rimaneva immobile davanti alla sua scodella La donna tornò dopo un'ora in punta di piedi tanto per dare un'occhiata Il bambino dopo aver divorato dolci crema e pera zuccherata stava mangiando la marmellata col cucchiaio sporco di minestra Il padre era uscito dalla stanza Celeste prese il bambino gli detto un bacio lo portò in camera suba senza far rumore e lo mise a letto poi tornò in sala da pranzo sparecchiò e rassettò agitatissima Nella casa non si sentiva nessun rumore nessuno la donna andò ad origliare alla porta del padrone nessun rumore guardò dal buco della serratura lui stava scrivendo e sembrava tranquillo tornò a sedersi in cucina per essere pronta in qualsiasi avvenienza intuiva che c'era qualcosa nell'aria si addormentò sulla sedia e si risvegliò che era giorno fatto fece le faccende di casa come al solito spazzò spolverò e verso le otto preparò il caffè per il signor Lemonnier ma non si arrischiava a portarglielo non prevedendo in qual modo sarebbe stata accolta aspettò che suonasse lui ma non suonava passarono le nove le dieci spaventata Celeste preparò il vassoio e si diresse verso la camera col cuore palpitante si fermò davanti alla porta rimanendo in ascolto non si muoveva niente allora bussò non rispose nessuno facendosi coraggio la donna aprì la porta entrò e mandò un urlo terribile facendo cadere il vassoio della colazione il signor Lemonnier penzolava al centro della stanza appeso per il collo all'anello che reggeva il lampadario la lingua gli ciondolava fuori orribile la ciabatta destra era caduta a terra l'altra era rimasta al piede una sedia rovesciata era arrotolata sino al letto urlando ancora Celeste scappò via sconvolta raccorsero tutti i vicini il medico accertò che la morte doveva risalire alla mezzanotte sulla scrivania del suicida fu trovata una lettera indirizzata al signor Duretour c'era scritta una sola frase vi lascio il bambino e ve lo affido grazie a tutti